Buongiorno a tutti i presenti, con grande emozione che ci aggiungiamo all'inaugurazione di questa biblioteca, opera che è stata da alcuni anni nei nostri pensieri, quale cuore e pulcro del futuro povo culturale, attestato nel centro del nostro paese. Oltre al sottoscritto in qualità di delegato ai lavori pubblici, in questa giornata di festa sono presenti il nostro sindaco Franco Miracoli, la signora Cede D'Acco, il vicepresidente della provincia di Milano e l'assessore alla cultura dottor Novo Umberto Maerna, il presidente della fondazione per leggere il dottor Gesalemai, il collega consigliere delegato alla cultura, dottor Mattia Zendrossi. In questo momento di congiuntura che vede i comuni sempre più in difficoltà nella realizzazione di opere pubbliche per la carenza di risorse e inconvenienze legate al fatto di stabilità, per merito del sofferenziale contributo della più presente benefattrice signora Cede D'Acco, siamo riusciti a realizzare una struttura che amplia la domanda sempre più frequente di cultura da parte dei nostri concittadini, un'opera all'avanguardia anche dal punto di vista tecnologico, la sede della nuova biblioteca con il vicino teatro auditorium, il palazzo delle associazioni e le scuole e il cuore del nuovo polo culturale. Mi auguro che il progetto finale possa essere ultimato, fondi permettendo, realizzando una sala multimediale nell'attivo acquedotto e per finire riqualificando anche questa piazza. Devo veramente ringraziare la signora Cede D'Acco che ha donato gran parte dei fondi destinati alla realizzazione della struttura. Ringrazio anche tutti i tecnici delle imprese che hanno materialmente realizzato l'opera. Ringrazio in maniera particolare il nostro ufficio tecnico con la capola responsabile Geometra Carlo Bai che ha diretti di lavori. Ringrazio l'associazione culturale Alve Cede D'Acco che ha tenuto i contatti con l'amministrazione comunale. La nostra responsabile bibliotecalica Monica Cestari è stata fondamentale. Ringrazio anche la fondazione Per Leggere che ci ha dato una mano nel progetto ed infine ringrazio tutte quelle persone che non ho nominato ma che hanno lavorato per la realizzazione di quanto vedrete. Passo ora la parola al nostro sindaco per il proseguo della manifestazione. Grazie. Buona giornata a tutti. Ringrazio anche io il Vicepresidente della Provincia dell'Assessore della Cultura, il Dottor Nai, tutti voi presenti, la mia amica sindacchessa di Noviglio Nadia Verducci. Oggi per la nostra comunità è una giornata importantissima. Importantissima perché inauguriamo un centro di cultura, una nuova biblioteca, una nuova biblioteca moderna che ha tutte le nuove tecnologie per poter dare spazio ai nostri studenti ma anche a tutta la nostra comunità. Non voglio anch'io dilungarmi nei ringraziamenti che ha fatto Daniele però abbraccio io tutto quello che ha detto. Però se noi oggi siamo qua a questa inaugurazione la cosa che mi viene dal mio cuore ma che vorrei esprimere tutti voi è perché avviene per un grande atto d'amore. Un grande atto d'amore che la signora ha voluto fare a suo marito e che ha voluto fare alla nostra comunità. Perché senza il suo contributo, generoso contributo di 500 mila euro, probabilmente oggi non saremo qua a inaugurare questa struttura. La nostra gratitudine è immensa, di conseguenza che anche le generazioni future avranno la possibilità di ricordare Aldo e Ceredaco che sarà dedicato a questa biblioteca. La storia dei Daco è la storia che è la storia del nostro comune. Daco è stato il nonno di Aldo Daco, è stato il primo sindaco di Caggiano. Il padre del signor Aldo Daco è stato l'assessore alla cultura dei comuni di Caggiano e come diceva prima la signora Daco è stato quello che si è fatto promotore per l'allargamento delle scuole che quando Caggiano erano un po' non adatte. E poi abbiamo il signor Aldo Daco, il nostro concittadino nato a Caggiano e con il suo lavoro, la sua grande volontà di conoscere, di apprendere e di sviluppare, si è creato nel mondo una posizione che oggi ci inorgogisce un po' tutti. Per tutto questo motivo io vi dico a fare un grande favore. Alziamoci tutti in piedi e applaudiamo la signora Daco che è un giusto. Io posso dire solo quello che era il mio marito. verso i suoi familiari predecessori. Quando c'è un pomaga invaduto che scappa da casa per andare con Garebani a fare un padre di teatro, è una cosa che non conosce ogni paese dove questo gangbandino nato, dove ha avuto un padre, come è stato detto, come primo sindaco dopo l'unità d'Italia e che ha fatto delle cose un po' insolite per quel tempo perché il nostro predecessore Ambrogio Daco era nato 1813 in questa zona della Lombardia. per cui era sicurissimo nell'animo di mio marito questa terra, queste sue origini e questo orgoglio di essere è bello di ricordare prima cosa mio marito che devo dire dal punto di vista affettivo e non so come dire un uomo esemplare e oggi sono lieta di poter vedere un piccolo gesto fatto da me e ricordo di questi clienti. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti voi, sindaco, consigliere delegati, Cesare e anch'io mi unisco a complimenti e saluti della signora Daco. Oggi è un giorno importante, lo dico senza retorica e senza fare discorsi di certi clienti, si inaugura una biblioteca, è vero che avete un sindaco che si chiama Miracolo ma questo è davvero un miracolo perché nei momenti che stiamo vivendo, soprattutto gli enti locali, tali governativi che arrivano strada facendo, uno non lo dico anche al sindaco, lei mi capisce, che arrivano non all'inizio dell'anno così uno sa su cosa può contare, arrivano nel corso dell'anno quando gli impegni sono già stati assunti, in un momento in cui il fatto di stabilità che non è una scusa ma è una realtà vera che inchioda ogni investimento, inaugurare una biblioteca è davvero un miracolo. E grazie al neomecenatismo che vedo oggi realizzato qui, a cui noi studiamo tutti i giorni perché la cultura può sopravvivere, vivere, andare avanti, efficientando la propria azione, coinvolgendo il privato e badando il sodo. Noi abbiamo bisogno di una politica culturale che sì, che non divida, che unisca, che emani valori universali e che sia concreta. Qui avete la fortuna, abbiamo, lo dico anche come cittadino di Magenta, abito qui vicino, ma anche come assessore alla cultura dei sistemi bibliotecari veramente efficienti. Ci sono province come Bergamo, Brescia, Mantua, che sono disperate nella gestione, perché non riescono a gestire le biblioteche del territorio, perché non hanno fondi. Noi abbiamo i sistemi bibliotecari che, nonostante tutte le difficoltà del Cesare, lo sapete, sono efficienti, riescono a far vivere le proprie biblioteche, in particolare in questa zona, che questo è un elemento di merito. E allora la biblioteca è un elemento che rimane alle future generazioni. Noi costruiamo qualcosa di strutturale, culturalmente parlando. E quindi questo è l'importanza che ha la giornata di oggi e quello che andiamo a fare. Io non ricordo se questa è la decima, la quindicesima biblioteca che andiamo a inaugurare nuova su tutto il territorio in questi quattro anni di gestione. Sono comunque elementi di dinamismo, che vuol dire che comunque ci siamo e che cerchiamo di spendere al meglio i danali dei nostri cittadini. In più, la signora d'accordo ha evocato anche il valore, dicevo, universale e unificante, l'orgoglio di essere italiani e l'unità d'Italia. Vedete, questa è una nazione che basa la propria, come dire, la propria nascita anche sulla cultura, certo le battaglie fondamentali. Ma questa è la patria di Dante, di Dante Alighieri. Non dobbiamo mai dimenticarselo questo. E nel mondo lo sanno bene. In più, è in arrivo l'Expo. L'Expo è un'occasione che dobbiamo cogliere, soprattutto dal punto di vista culturale, oltre che tutto il resto, naturalmente, l'alimentazione, l'agroalimentare, che è cultura anche quella. E allora, alcune zone della provincia, per esempio l'Ideroscalo, nel caso delle aree di nostra convenza, ma alcune zone come questa, la Biatense, che hanno caratteristiche ben precise, sia dal punto di vista culturale che dell'agroalimentare, devono essere parte di questo percorso che questi cittadini stranieri che verranno con l'Expo dovranno conoscere. Avere elementi di eccellenza come questa sicuramente eleva il territorio da questo punto di vista. Per cui non posso che essere grato e ringraziato per tutta questa fatica e questo impegno, è un impegno sociale importante per la vostra comunità, ma non solo, perché la fondazione è appunto una fondazione su tutto il territorio e permette di essere centro propulsore di cultura per le nostre comunità e i nostri giovani. Grazie, grazie di tutto. Un discorso di Cesare Naiche, collaboratore storico della Biblioteca di Gaggiano, perché è il presidente di Fondazione per Leggere, che raggruppa insieme a Gaggiano oltre 50 comuni e devo dire un valido sostegno anche in fase progettuale di questa Biblioteca. Grazie a tutti, grazie signor Sindaco, grazie Mattia, per avermi dato l'opportunità e mi leggo di essere qui con voi quest'oggi. e lo dico, sono piuttosto emozionato e soddisfatto nel condividere con la comunità di Gaggiano un momento così significativo e così importante. Non si diceva prima, in questi tempi difficili per il nostro Paese, vedere, essere qui ad inaugurare una nuova biblioteca è qualcosa di veramente importante, anche perché, diciamo, una volta tanto si realizza quello che è auspicabile, quindi una sinergia tra la sensibilità e la generosità del privato, qui è ancora un ringraziamento grande, grande alla signora D'Arco, e naturalmente l'impegno e la volontà forte di un'amministrazione comunale che nella sua Biblioteca, oggi non vogliamo la loro Biblioteca, ma non trascorriamo il passato, questo luogo di accesso alle informazioni, questo luogo di scambio culturale, questo luogo centrale per la comunità, ha sempre visto qualche cosa di importante e di imprescindibile. Oggi siamo qui a inaugurare una Biblioteca che è al centro del Paese, ma io sono convinto, e lo so, conoscendo Mattia ormai da un po' di tempo, che la Biblioteca, ancorché la vecchia fosse un po' distante dal centro, era sempre stata invece centrale nella visione e nell'interesse. E quindi anche in momenti difficili, dove spesso si dice che, insomma, mettere a disposizione fondi per la cultura diventa complicato, perché ci sono altre priorità, ci si accorge invece che investire in una Biblioteca, investire nella cultura significa anche scommettere. Io sono sempre emozionato quando partecipo a qualche iniziativa nelle nostre biblioteche e trovo che ho paghagiato qualche mese fa una bellissima iniziativa per i ragazzi, per i bambini, vedere le nuove generazioni, soprattutto i giovanissimi, avvicinarsi a questi luoghi che si riempiono veramente di entusiasmo e ci fanno ben sperare per il futuro. Non trascuriamo naturalmente tutte le generazioni che, che ormai superati i 50 anni, sono più sulla parte della generazione matura, ma certamente per i nostri giovani il poter contare su luoghi sempre più accessibili e sempre più moderni negli strumenti di conoscenza diventa fondamentale. Come accennava il Vice Presidente Maerna, siamo in una fase, e chi amministra a livello locale lo sa bene, di enorme deputazione e quindi qualsiasi risorsa messa a disposizione deve essere finalizzata in maniera efficace e intelligente. I sistemi bibliotecari in questi anni hanno cercato di rendere omogeneo il servizio sul territorio, per quanto possibile abbiamo sempre cercato di portare avanti i nostri progetti. Certamente non aiuta una contingenza, per cui i comuni oggi io, parlando con tutti i sindaci, mi trasferisco con le loro difficoltà e però devo dire che il nostro sistema può ancora contare sulla solidarietà delle arministrazioni comunali. Questo è importantissimo. Sono contento comunque che anche gli enti superiori della provincia, ma anche la regione, se ne rendano conto. sanno che non possono abbandonarci. Mi sono convinto che anche quest'anno, in un momento particolarmente difficile, una esperienza di eccellenza, quale il mio onoro di presiedere, Fondazione per Leggere, potrà procedere sulla sua strada, che è una strada fatta di collaborazione tra tutte le biblioteche del sistema. Qui siamo a Gaggiano, Gaggiano, lo ripeto, ha sempre avuto il centro della sua attenzione alla biblioteca, però direi che tutti i comuni della nostra area hanno avuto nel tempo questo atteggiamento. Quindi noi abbiamo, nonostante tutto, nonostante il momento difficile, tutti i parametri in crescita. Abbiamo superato i 120.000 iscritti su un bacino di circa mezzo milione di abitanti, stanno aumentando i prestiti, stanno aumentando gli accessi. Allora io direi che questo è un momento veramente importante, veramente significativo. E' presente qui con noi anche Stefano Parise, che è presidente dell'AIP, e che è stato, è un grande amico, è stato direttore fino a due anni fa di Fondazione per Leggere, e se la Fondazione oggi rappresenta un esempio, forse anche per tanti altri sistemi, lo dobbiamo senz'altro, il suo impegno, la sua capacità, la sua professionalità. Concludo con un pensiero a Monica Cestari, che è la bibliotecaria, la direttrice della biblioteca di Gaggiano, oggi non ha potuto essere presente per ogni disposizione, mi dispiace molto, però questo è importante, sottolineare che una bella biblioteca, una grande biblioteca, una biblioteca moderna, deve essere però riempita di professionalità. Oggi la professionalità, e quindi anche qui un appello che io faccio ai sindaci, ripetutamente, agli amministratori, è quella, non trascuriamo la professionalità di chi gestisce le vostre bibliotecce. Ci sono sistemi moderni, ci sono nuove procedure, e quindi anche questo è importante alla Monica, in questi anni, vero Mattia è diventata un po' il punto di riferimento di tutti i cittadini che a Gaggiano accendono ai vostri spazi bibliotecari. Quindi direi una bellissima giornata, ringrazio a tutti di essere qui presenti, vedo che la comunità di Gaggiano è a corso numerosa, e spero che questo sia una delle tante nuove aperture e nuove inaugurazioni a cui possiamo, diciamo, avere la fortuna in futuro di partecipare. Grazie ancora a tutti. Faccio anch'io un ringraziamento personale sentito alla signora D'Acco, che in questi anni ci ha riconfermato la fiducia, e penso che oggi possa vedere come questo suo investimento, questa sua donazione sia stata ben spesa. Ringrazio tutte le associazioni, la banda, che anche oggi ha risposto alla chiamata, il comando dei carabinieri, tanti amministratori dei comuni vicini, ringrazio l'assessore Colla, il sindaco di Noviglio Nadia Verduci, che sono intervenuti perché questa è veramente un'occasione di festa, e appunto non capita tutti i giorni, è un'occasione di festa per il territorio. Segnale che è qualcosa di straordinario, cioè fuori dall'ordinario, nel senso che non era scontato, non era normale, e si potesse raggiungere in un contesto, come giustamente ha ricordato prima il vicepresidente della provincia di Milano, comunque difficile. Però l'impegno da parte di tutti, dei finanziatori privati, ma anche da parte del comune, è stato massimo in questo senso. Ringrazio poi veramente tutte le persone che sono qua oggi, io vedo moltissimi volti della Gaggiano Sociale, della Gaggiano Associativa e affezionatissimi utenti della biblioteca. Ecco, la risposta perché abbiamo fatto una biblioteca nuova, risistemando la vecchia palazzina, la palestra delle scuole elementari, ecco, sta in questi numeri. Il servizio bibliotecario comunale, che è libero, gratuito, universale, è il servizio con la maggiore penetrazione sociale, con il maggior numero di scritti del comune di Gaggiano, e con ottimi ritorni. Quindi un investimento, segno anche dell'accoglienza e dell'attesa che c'era nei confronti di questa opera, la risposta è qui, nelle tante persone che sono intervenute oggi, come sottolineare che è centrale, non soltanto nello spazio geografico, o una biblioteca di questo tipo, ma anche dal punto di vista culturale, sociale, la vicinanza con le scuole non è stata scelta a caso. Certo abbiamo avuto i nostri tempi, però molto spesso si dice che la politica a volte non abbia delle visioni, magari anche a livello locale. Però in questo caso c'è stata, nel senso che la vicinanza delle scuole, la sistemazione prima della palestra per consentire il trasferimento e quindi il riutilizzo di questo spazio che era la vecchia palestrina, ormai insufficiente per le esigenze dei ragazzi delle scuole elementari. Poi abbiamo iniziato questa ristrutturazione, la sistemazione dell'auditorio, il palazzo qua di fronte, il palazzo, qua, che abbiamo detto, l'impettaio delle associazioni che contiene anche la scuola di musica. Poi i nostri tempi, seguendo la progettualità, siamo riusciti, tassello dopo tassello, a andare avanti in questo che è un progetto culturale e non finisce qui perché certamente le sfide saranno ancora maggiori. Innanzitutto anche a una riorganizzazione del servizio con anche un ampliamento in termini di fascia oraria perché se ne diamo conto sarà ancora più utilizzata uno strumento di questo tipo, la piazza stessa. Insomma, il percorso, questo non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza. Dicevo prima delle idee, però le idee sono belle, però marciano sulle gambe degli uomini, sulle braccia degli uomini. Io devo veramente ringraziare tutte le persone che hanno lavorato e hanno consentito, come la signora Dacoi, che poi hanno lavorato su questo progetto, un progetto che parte da lontano. Si nasconde tra la folla perché è il suo costume, però un ringraziamento va a geometra Carlo Bai e a tutto l'ufficio tecnico perché questa avventura è iniziata... Cesare prima ringraziava Stefano Parise, direttore generale di fondazione per leggere, è iniziata cinque anni fa, doveva essere ottobre, una serata piovosissima, giocavo all'Italia una partita fondamentale, io e Carlo persi per Moncucco per cercare la biblioteca di Vernate per andare a raccogliere delle sollecitazioni in merito all'arredamento delle biblioteche. Quindi è un progetto di lungo corso, a tutto il personale comunale, dagli uffici finanziari a quello tecnico, a Monica, che principalmente ricordava Cesare, è stata veramente una compagna di stata indispensabile, a cui farei un applauso, che oggi anche il suo compleanno è purtroppo... Abbiamo regalato il posto di lavoro più bello di Gaggiano e c'è il marito e la figlia che sono venuti in sua rappresentanza. Poi so che la signora D'Acoe ha pensato anche a un omaggio che daremo alla famiglia. Questo è un dono che io consegno al sindaco a nome dell'associazione Aldo Ecele D'Acoe ed è, si tratta di un documento che durante i nostri lavori di ricerca storica perché la finalità della nostra associazione è anche questa, abbiamo individuato e abbiamo ritenuto importante, si tratta di un regio decreto del 7 marzo 1869. Cosa istituiva questo regio decreto? Istituiva il comune di Gaggiano e uniti, nel senso che i comuni di Mitro che venivano uniti, quelle che sono le frazioni odierne. Quindi ci piaceva e ci piace. Consegnato nelle mani di Monica che purtroppo oggi non c'è è comunque il nostro dono alla biblioteca e riteniamo a tutti i gaggianesi. Ringraziamo ovviamente l'associazione Aldo Ecele D'Acoe e appunto dico soltanto che tutti hanno dato un po' più di quello che era anche loro dovuto. In questo c'è un grande lavoro di squadra con anche il sindaco che è stato attento giornalmente tutte le mattine che veniva a vedere come andavano i lavori, a consigliere D'Ec. Insomma l'attenzione è stata veramente massima su questo progetto. Bene, il tempo di discorso è finito. Adesso inviterei la signora D'Acoe a venire per procedere all'inaugurazione. è stata rapidissima la signora D'Acoe a via, via a preghetto. è stata fatta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.